Ci ammali. Quello che mi dà noia è lo spettacolo che tutti noi diamo di noi stessi per il bene dei quei giovani emissari di destino. E di chi è la colpa? Non importa di chi è la colpa. Non mi sono mai sentita così a disagio, è semplicemente orrendo. E' peggio, è sciocco, è puerile, e manca di dignità. Non è la sola cosa a mancarlo. Pubblichino pure quello che vogliono su di me. E io invece dico che non pubblicheranno proprio un bel nulla su nessuno di noi. E come continui a impedirglielo? Eh no, non lo so ancora bene. Intanto trovo sia giusto informare Connor e la fotografa che siamo tutti perfettamente al corrente dello scopo del loro soggiorno qui. Ritengo che è indispensabile. Benissimo, l'informo io. No, è meglio che lo faccia io. Non voi, se non altro come titolare della famiglia. Certo, pur che poi noi si abbia diritto ai primi posti. Non dare mai questa inflessione alla tua voce, Tressi. Non ti dona affatto. Ah no? E la signorina Mara? Che inflessione di voce ha. Fa sempre le fusa. Stai zitta. Non lascia stare, Mara. Bassa e calda, vellutata, molto signorile, suppongo. Hai un bel diritto tu. Dopo il modo con cui hai trattato la mamma. Dopo il modo con cui hai trattato tutti noi. Un bel diritto davvero. Di venire qui con quel tuo atteggiamento altezzoso, distinto. A prendere posizione, a criticare il mio fidanzato, a fare confusione. Proprio come se tu avessi... Dismettire, Tressi! Non ne posso fare a meno, è... Tressi! Dismettire, Tressi! Tressi!